Ciao ragazzi e benvenuti sul canale. Nel video di oggi vediamo tutti gli ampli che ho utilizzato quest'anno in tour con i Senzaresa. In questo video vi faccio ascoltare alcune clip audio delle simulazioni di ampli che ho utilizzato per i brani scaletta di quest'anno con i Senzaresa. Ok ragazzi partiamo subito con i primi brani scaletta. Per chi non mi conoscesse io suono in una cover band di Vasco da tantissimi anni e quindi il nostro repertorio è basato logicamente sui brani di Vasco. Per i primi due brani della scaletta ho utilizzato il Bogne Shiva con la Variax accordata un tono sotto e in modalità simulazione Les Paul. I brani sono Qui si fa la storia e Buoni o Cattivi. Quello che tu cerchi tu proprio non lo sai, quello che tu cerchi è già qui ed avanti a te. Qui si fa la storia o non si fa, si deciderà tutto qui, chi può aspettare aspetterà, noi scappiamo fuori di qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il secondo ampli che ho utilizzato è il Friedman BE100. Questo è un ampli che ho utilizzato in gran parte della scaletta quindi vi faccio ascoltare giusto alcuni riff, alcune clip audio con questo ampli. Grazie a tutti. Non capisco ancora E ci avresti sì Per l'altro Quando ho perso ancora Sì, stupendo Mi viene morto E più forte di me Non lo so Se sto qui Il terzo ampli che ho utilizzato È il JCM800 Sui brani Domenica Lunatica Gli Angeli E il Medley di Modena Park Quello alterno con il Bong da Shiva Ascoltiamo qualche clip audio Sei tu che quando balli così Puoi provocare E lo sai Cos'è che scatemi tu Dentro di me E sì, continua pure così Che fai bene Bene E lo sai Ti dirò sempre di sì Che voglio per te Ti immagini La faccia che mi fanno È vero Se da domani davvero È vero Tutti quanti smettissi Ti immagini Se forse è sempre domenica Tu fossi sempre libera E se tua madre Forse meno l'erotica E tu delusa Attenta a chi ti troppo usa Rischi un po', un po' di più E se tse l'erotica Rischi un po' di più ok ragazzi anche questo video finisce qui io come sempre vi ringrazio vi invito se non siete iscritti e se vi va iscrivervi al canale di seguirmi su Instagram e su Facebook noi ci vediamo in un prossimo video dove vi faccio vedere come ho programmato gli snapshot su alcuni brani particolari della scaletta un abbraccio a tutti e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti